ahahah Ok guarda, i miei 9389 euro stanno scendendo per colpa di quello con la roulotte Vido un cacchio, troppo buio Inizio la signora dietro a urlare C'erano anche i bambini probabilmente C'è una signora qua dietro che ha fatto Spaventatissima Devo girare qui, non capisco come è messa questa strada Sì Devo girare C'è ho sentito l'urlo della signora Oh ma sei un problema Sara, c'è un problema Che è successo? Chi ha? Hai causato un incidente? C'è un problema Sara Devo scendere? Allora